un esperto del 18 molto a parte armi noi la vota scurato un po per il 16 ma tu li comprati tutti sti moduli ma no il 18 si e 16 no era in prova gratuita infatti mi è scaduto e ti è piaciuto un bel po però devo prendermi altre cose più importanti un ssd migliore e lo stick poi pensiamo ai mondi venditi lo stick prima quando le ssd e pc c'è uno spazio 20 gb liberi non posso installarmi niente questo allarmi norma e torre dal foxtrot papa 001 torre 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 ho detto torre torre e senti male a rivedi torre torre da foxtrot papa avanti pop pop acquittone ed autorizzazione cioè riporto punto attesa ottimo e mi chiede autorizzazione a entrata in pista autorizzato ad entrare in pista allineare e riportare il sottovento torre è normale che o che dei un po di pia me che escono dal dalle prese accanto al motore deve chiamare il meccanico per questa domanda sì che è normale vai ok se non chiamare il meccanico poi il meccanico meccanico provare mi sembra normale e ricordi del suo nominativo che resi io l'ho spegnato il tuo anch'io il tuo india charlie 001 ci avete tutti la memoria scorta la memoria che fa la scorta il però come cosa c'è ricordarmi di un nominativo missione di tanto se mi ricordo il mio il suo un problema la ricorda la procedura di lavoro ero di sì credo di sì ma sì a parte che faccio un looping però sto facendo un looping connessione a palermitone a parte che la mia è peggiore di tutti a parte che la mia è peggiore di palermo il sicilio a palermo a palermo a palermo io me la ricordo geus cioè me la ricordo ripeto ehm mettere la manetta il 50% poi tenere la barra alla pancia un po' non troppo no no chi te l'ha detto un po' chi te l'ha detto un po' ehm tu no tutta barra alla pancia no tutta barra alla pancia fino a 50 nodi 50 o 60 poi mettere un po' la barra ma io ti dico cose che tu poi te le cambi 80 90 nodi quale 50 chi ti ha detto 50 tu ma ancora perché prendi in giro il ragazzo zeus io se stai fatto frullati alla frutta non è che poi si scorda le cose ehm ehm ti sei fatto frullati alla frutta protetto protetto si ti sei no frullati allora vedi che sembra zeus che dice eh eh tu puoi frullati alla frutta si scorda tutto ripeti vabbè 80 90 nodi si poi metti levi la barra alla pancia e poi come risogli quei nodi eh 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 a retorra da e fox papa 001 avanti box chiede autorizzazione al decollo vento ah vabbè facciamo finta che l'hai detto mi sembra giusto per i suoi e a peggio di d peggio 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 ma no peggio così quindi è peggio è peggio sì che è peggio è interessante ah si sta venendo questa cosa perchè non sei in linea non so non so perchè non sei in linea perchè non sei in linea non ti trovo in mente dai non mi sono in linea che che vabbè io faccio finta che siamo in linea allora dai un attimo un motorino mi fai un attimo vedere qui ma lei è il problema no allora ma io posso dire quella grande una tax devi togliertelo soviglio è liberato da mo a metà della pista non vedo né carrello né sacca di flap sono allenato geus oh guardiamo ah regress con il mondo giusto ma non hai portato il suo progetto ma 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 non ma 2 2 ma 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 un avvicinamento corretto o 2 ma non sono allenato scusi un po' con le mie rientra frappe e rifaccio non c'è un libero soldi sul voto io ho fatto tutto giudicato per scuse mi si è pagato tutto io ci ho finta di me no chi che sto battuto non so più che un optional che è successo mi chiedevi il carrello si è baggato marimma cannella ciao ciao da fox not papa avanti chiede dottor Giacela lo start up ma fante che è sbarcato questa comunicazione è inutile tu metti in moto l'aereo e poi mi dici quando vuoi andare dove devi andare per andare dove devi andare e prima di mettere in moto si dice via dall'elica via dall'elica ho il motore danneggiato tu? si l'ho over speed torno alla base torno alla base che è giù sei? ah ad anderson che è giù sei? ah avevo capito dove sei ecco il 18 perché non venite qua che facciamo un po' di bollo lento? per quanto mi riguarda possiamo anche venire no come? mi chiudo allora fammi ci dare una mano questi poveri cluster mi hanno l'ultima smitragliata allora è io allora ma vedo soltanto due server non vedo lo rire Zeus ma si dice dalle mie parti chi cerca trova chi trova cerca indian se lo trovo ciao da india papa 001 ma anche india papa pox papa quale india? eh vabbè si giusto chiede l'autorizzazione ciao chiede l'autorizzazione ciao 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 posso autorizzato ad entrare in pista allinearsi e pronto al decollo riportare allineato in pista riporterò poi non cedo te lo vedo il server aiutatemi aiutatelo 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 nessuno che l'aiuta lì non staccio no non vedo il server adesso perché mi ha imparato a mettere se volete armi man p man conquista l'aeroporto armi man a culo dell'aeroporto vi ha un po' di volo lento con noi vieni vieni armi armi sto impazzendo mi sto impazzendo mi sto impazzendo mi sto impazzendo aiutatelo eccomi 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 la cuffia se ne è andata per aver fatto i suoi dicevo vieni a fare un po' di volo lento con noi che tu sei bravo a fare il volo lento come il volo lento che significa il volo lento vieni e vedrai con i tuoi occhi fermi sto impazzendo lo vedo adesso sto entrando fermi sto impazzendo me l'ha caricato adesso aiuto papa linearsi a sinistra più avanti di me ok comunque per chi non c'era prima Zeus ho messo le missioni di salvataggio con gli ui alla gente che si espulge che si no che si espulgilò arbitro no no armi se ti esperti ex ex intende lui armi l'ho capito ecco è come l'ha detto che ho fatto morire che si leva dai coglioni infatti vedo che ci sono due da recuperare su di cava di ruota torre torre ma sui player vengono cioè a prenderti a posto torre e stiamo anche al caffè ma ma se fai quello che spazio mi pare a posto l'affermativo si deve attaccare a protector re green fox fox marietta leizioni papa 001 avanti fox crock talk chiede autorizzazione al decollo autorizzato al decollo grazie il circuito perfetto con touch and go e ripetere sempre le manovre ok come si vuole questo bellissimo è di base se ti schianti hai perso ma proprio de base eh proprio quella base e base a base da quella lusso e base che sennò chiuda con le optional quella con le optional è sclerico in quest aereo ma sennò è l'optional avanti torre per portare il finale riporterò allora dove lo porti a sport già è complicato così grazie chi c'è nella pista con barsi le sigarette ma io mi sto dicendo lo start up e zeusi mi diciamo posso sorpassare o stai partendo vada si alline in pista alla mia sinistra non è facile eccolo lì hai perso la mano? troppo no io ci ho perso tantissimo ma io non ce l'ho mai avuta la mano questo diverso ah io hai fatto pure le manovre avanzate non ci hai avuto mai la mano ma che sta a dire si appiava per il fondo schiena che è passato qui col boing 747 che c'era un'ombra praticamente in finale riporto finale con chi è? ah ma è perfetto ma riporto il primo vuol dire che ci deve già essere sopra vuol dire che devi essere a 5 o 6 secondi dalla pista india charlie a tendere al punto attesa piogge ok aspetta che parliamo il punto attesa è dove sei adesso? bravo prima della rinaggiatta si andava troppo avanti eh mi ricorda te lo posso ok io sono al fuoco eh no mi spiegate perchè perchè non mi va non mi va il carrello non mi va un carrello non mi si salta perchè hai fatto l'atterrello sbagliato hai dato una crocca e un carrello si è storto e che faccio? lo rifaccio? eh certo vogliamo volare con il carrello storto? vogliamo volare fino a quando lo si stacca aiutatemi effettivamente ho toccato le luci decollo 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 se sei decollo colla ormai decollo mi aveva detto decollo ommosì no decollo oddio oddio fuori pista fuori pista fuori pista ah non posso entrare non serve perchè? non c'è il pucarà india charlie entrare in pista allinearsi a sinistra di zeuse di india azzurro regge si mette di circuito anche te touch and go circuito touch and go poi vengo in volo anch'io e facciamo il volo lento a volo lento non funziona vuoi andate in buro adesso e annalento ok lei soprana di me lo muove lento non è quello non penso zeus visto che vuole bene alla mia scheda grafica ha messo come tempo atmosferico il tramonto così che ci sono più riflessi che te sorgere anche la esploda il pc tra poco mi scarrò di cifo la retea retefroxtrotter attendere al punto attesa fox papa sony può sono al punto attesa a vedere attendere voce del verbo fa tatteremo la ok grazie prego torre torre da india charlie 001 ma chi ti ha permesso il decollo autorizzato al decollo riportare il finale permesso no ha consentito perchè mi stai antipatico ambè può succedere? come no non bene ma quant'altro si può mandare affanculo fra torre e pilota fox papa entrare in pista all'inerzia a sinistra e decollare immediatamente ah mi sta laggando bcc no è in finale ma attenzione torre abortire il finale ripetere il circuito ma porca di quella porca di della porca ok protector bocciato appena avuto l'alaga che vai fox papa liberare la pista 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 cacchio ma non c'è gli appunti aiutatemi per favore aiutate protetto aiutate chiamate l'autoambulanza per protetto eh autoambulanza in aivo come faccio ragazzi ok adesso i due piloti che sono in circuito mettete il carrello full flap e mi volate a 150 nodi facendo tutto quanto il circuito carrello no domanda ci arriverà un giorno a fare questo circuito bene un giorno cerco io e tu ci riesci se verrugli a quella velocità protector la vedo difficile cosa se verrugli con quella velocità la vedo difficile devi andare piano no no ma no a parte a parte il rullaggio no 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 si incomincia dal rullaggio quando mettono un nuovo allievo pilota dentro l'aerea la prima cosa che gli insegnano è a rullare dopo se vola prima devi imparare a rullare a terra e poi la accendono e poi la pisciano con una tannica di benzina questo aereo mi tende ad andare sotto porca porca mannaggia a lui chi non io dice ti ricordi il trim? eh si che sto già trimmandolo a che quota stai? non te lo dico non te lo devo leggere ehm sono sui mille piedi roggio avanti foxfrog papa piede autorizzazione al rullaggio autorizzata al rullaggio riportare punto atteso ma è succedere che qualcuno fa il circuito prima di te tagliando la curva e ti giuro la posizione dell'atterraggio? eh allora non ha fatto il circuito sta a fare un'altra cosa 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 doveva allinearmi alla pista? eh dai la stagio manetta che stiamo stallando mi devi riportare il punto attesa protetto ok ma ehh re chris sta aterrando? eh sto facendo il toccio come ci ha detto zeus la lettera da foxtrot papa zero zero avanti foxtrot papa zero zero riporto punto attesa riporto punto attesa rimanere in attesa attende sono in finale non vedo più crazy che fino a foto sono a miller piedi e sono a hood della pista su della mia porta ok Regis non atterrare riprendi il volo e mantieni 150 nodi full flap fuori carrello fuori continua il circuito foxtrot papa entrare in pista lineare e decollare decolla foxtrot papa foxtrot papa sono in full sì sì vai piano tagge ditto maremma cannella torre cambio ci dov'è pupe india charlie 001 sì sì lo so lo so eh sì dici avanti 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 torre avanti torre che indotto tu sei io vedo sono ma non l'abbiamo fatti per cui devo te ah aspetta eh sì però un attimo aspetta non è che fa' una cosa te la scordi da mettere il cassetto eh no mi son bevuto un frappè anch'io mi so alla fragola o alla mela te lo sei fatto tu alla mela eccolo lo sapevo io eh la fragola è scontato torre da torre da intercharlie 001 no da fox per te si fa 001 vabbè quando hai deciso chi sei me lo dici cosa cosa quando hai deciso chi sei me lo dici sono fox track papa 001 che è autorizzato al decollo riportare il braccio di finale ti riporterò spero torre a torre da india charlie 001 sono in sottovento usatemi cioè come si dice così ma il sottovento di quale aeroporto di rota io ti vedo che stai a destra non stai a sinistra allora allora sono in ah vabbè aspetti sono in finale sono in sono in sono in quello che ha detto che è in finale ma loro sono in controvento è sempre sottovento ma dal lato sbagliato però ah allora vi faccio il circuito ma c'ho anche la landing light attiva no si ok non è male quanto è traggio troppo cattivo troppo cattivo eh lo so scusa colpa mia colpa mia colpa mia eh sì eh mi senti fatto ieri eh ma gli hai fatto male poverino dobbiamo installare ok ora sono in sottovento dal lato corretto no ce lo auguriamo tutto oh oh sì ma stai andando contro mano però ma regis visto che fa fa tanto lo spiritoso ti spiega il circuito no sì 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 quindi sono incontro a noi non è che fanno ridere loro fanno ridere le tue risposte oh eppure io mi sono fatto al tuo lato un riporto finale un riporto finale dimmi com'è il tuo assetto di volo protetto che è il tuo assetto di volo assetto di volo che vuol dire che c'è il carrello fuori full flap ah ok ho full flap e carrello fuori eh sì sono più giusto eh cento venti no 150 perché 120 perché 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 riattacca 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 adesso rimane con full flap fuori non atterrare non atterrare eh io ho detto non atterrare a terra eh ma chi che sta atterrando l'ho atterrato bene ma io t'ho detto di atterrare no perché ho sbagliato cioè del dito via ricomincia la gara ma bocciata vuol dire che proprio rifare tutto da capo sì sì tutto da capo e ripaghi tutto 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 sono ma devi pagare no sì sì qualcuno mi aiuta armi sono in braccio di cosa armi aiutami chi è che chi è in braccio di base io io chi india c'ha armi 001 ah ecco puoi da riattaccare perché ho un assetto è poco il rispondo riattaccare riattaccare non atterrare continuo il circuito rimantieni 150 nodi e rifai il circuito torre torre indice alizio avanti chiedo il permesso da 3 oggi negativo sono il filo negativo fai l'avvicinamento e rifai il circuito mantieni 150 nodi e pull pull up minchia come sei fuori asse io? no no io penso mi hanno girato subito ma riattacca se lo bevi con me o con lui? chi era in atterraggio prima? io allora il tetto torre da protetto di cade india da da fox che del 13 al rullaggio che del 13 al rullaggio autorizzata al rullaggio di portare a punta terza riportalo io non l'ho chiesto torre da armi avanti army man ti riporto che sono il punto atteso autorizzata ad entrare in pista allinearsi a sinistra di indiazzurro e decollare a tutti gli aerei in volo riportare il finale torre da fox avanti fox riporto punto atteso attendere stand by stand by mi fattano frullate torre 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 qui regress avanti regress avanti regress avanti regress avanti regress avanti regress avanti regress ma non può essere che una torre ti dica per esempio fa il giro un po' più lungo perché c'è gente certo ti puoi dire pure di fare un 360 ti puoi dire di tanti miardi sono in finale mantenere a serista e ripetere il circuito regress senza toccare senza appassionare torre torre chiedo permesso troppo alto regress sono sì sì sono alto e sono anche veloce dovete mantenere i 150 nodi avanti armi allineato e pronto autorizzato al decollo entrare in circuito e riportare il finale sono in finale penso penso chiedo il permesso per l'atterraggio atterraggio negato sorvolare altre piste e ripetere il circuito mantenendo i 150 nodi full flap e carrello fuori fox rock papa entrare in pista allinearsi e decollare e riportare il finale la riporterò va viena va viena i mortacci guarda questi frullati che te combinano guarda 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 ah ma dici a me o sta parlando con a me a me sto parlando con india io sono qua 140 nodi 150 ragazzi vi dovete concentrare mantenete i 150 nodi full flap e carrello fuori questo è libera negativo negativo hai riportato il finale india rox come cazzo ti chiami io sono indiazzurro lui è india e re non mi ricordo come cazzo è re quindi ho ah ma india vape perché italian e poi protetto esatto no protetto che è francese quindi è focfrot e poi non dipende da quante persone hanno il tuo stesso nome in teoria india romeo 0-1 riporto il finale continuare nel circuito fare un sorbolo a 6 pista a bassa quota senza toccare la pista quanto bassa? bassa quota vuol dire di quasi 0 senza afferrare mantenere i 150 india alfa india alfa da torre è india alfa che è successo qui? c'è una scia che mi va a dire riporto in finale simulare l'atterraggio senza toccare e ripetere il circuito oh cacchio è difficile questo india alfa india alfa da torre cambia nel senso che c'è io avanti indotto 6 circuito destro circuito destro sta rimando a scola pure a te il circuito si fa a sinistra aeroporto scusa maremma cannella te lo porto a due sete buon paverino a tuttolo ciao Valeriano vale salvami ciao Valeriano ciao Zeko dai vieni sul TF siamo tutti dai ah ah ai riattacca riattacca va bene così va bene mantieni a ste pista ripeti il circuito 150 nodi a quanto stai crazy 125 nodi 150 stai 100 ma cannella ok fai l'avvicinamento fai l'avvicinamento come se vuoi atterrare ma non atterri e rifai circuito riporta finale io appena detto fai finta di pensavo che parlavi a terry e rifai il circuito se riescono a terra simula c'è simulare l'atterraggio devo mantenere 150 nodi o lato perché non devi toccare ok che regge india romeo 001 rientrare carrelle flop velocizzare l'aereo andare sull'asse pista e fare gli otto cubani crazy stessa cosa protector stessa cosa anche se non sei pronto armi stessa cosa non mi sono gli otto cubani posso dire che ci scambiamo quant'è ma non so come si non rispondo questa comunicazione non me la posso dare no aspetta ma che è un otto cubano e infatti cos'è reggis spiega al protector l'otto cubano chi è che è appena passato reggis ok più basso reggis devi stare proprio quello che è sto violentando l'aereo con il trip violentano di più lento lo viene straccia è completamente detrimano posso e ci provo ma sarà una merda chi è in finale guardate io in 10 anni entra carrelle flop e seguire ma non c'è così una sua cubana teus tu segui gli altri fai quello che fanno gli altri io ti ho chiesto di reali flop bravo diceva un altro ma è alto devi stati battere no spero di la pista deve avere per forza dei voti d'aria perché ma zeus dobbiamo avere il carrello su e anche il lotto ho appena detto ok manetta tanto a 50 per cento forse ho capito è un ciclo più bassi ragazzi più bassi sulla vista sono troppo veloce di 100 modi va bene va bene sarà ma ora deve essere la velocità india fa 0 0 1 la torre quanti d'ora position sopra di te non ti posso rispondere che ci stanno i minore bellissimo si incrocio vai continuate così bello sto volendo come una pizza sono io adesso questo e vai india charlie è bocciato no e chi a quel punto non ero io chi era io sono anche in volo grazie non è vero non sono io sto saltando ma protector perché sei esploso anche tu non risponde a questa domanda che chi ha appena sorvolato i miei rottami deve volare più basso io non prendo un po' più lunga tra l'altro non è rispettoso ruolare rottami anche te c'è la macchia ragazzi non ce la faccio ragazzi non ce la faccio ragazzi non ce la faccio ragazzi grazie a valerio ma viene qui con i tier non c'era abbastanza prendo il bietto torre 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 da india pa da si da india la fox truck papa 001 avanti chiedo entrare in un f18 o mirage non so se ce l'ha e fare volo libero negativo no torre torre da india charlie 001 che del permesso per entrare in pista autorizzato non ce l'ha non fatti prendere non ce l'ha ma non c'è rientrare in circuito full flap 159 adesso vengo un volo anche io facciamo il famoso volo li and che è sto volo niente non ce la faccio aiutatemi ma non impari non ce la farai mai se non ce la faccia non ce l'ha visto schiantato perché se non c'era mai in pari non ce la fai non è sicuramente il vocabolario dei vincenti risultato perché con freccia hanno ottenuto abbastanza mi sono schiantato e da un mese che non c'è poco faccio e non c'è non c'era io ma sì ma poi torre torre qui india romeo non penso che la mia benzina apprezzi molto questo sfruttamento chiedo di atterrare a fare un refueling autorizzato a refueling jars molto gentile ma si figuri io ci provo da un mese prima di mettere in modo l'aereo fate il pieno all'aereo e per me forza io non so dove la prego la benzina io vado ad occhio quando me lo ricordo mi fermo io io ci provo da un mese a a farlo e c'è lì ci ha messo una settimana allora profetto fino a quando tu non ti metti col tf tutti i giorni o l'arco è da imparare come si vuole a imparare questo avrà quello se fai una toccata qui una toccata la non imparerà mai nulla devi imparare su di imparare una cosa ti metti di e la impari e fai solo quello per due ore ti metti a fare gli otto cubani di scarti e lo rifai non so fare il circuito già non so fare il circuito ora anche gli occhi gli otto cubani insomma cosa è che è sulla pista fino a che non fai gli atterraggi circuiti perfetti non possiamo andare avanti fino a che non diventi padrone dell'aereo c'è qualche criminale che sta decollando eh sì oh 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 dio no vero che sto aereo si è buttato in avanti chi cazzo se lo ricordava oh cazzo che cosa sono dimenticato si è girato un po' troppo no no india alfa finale ehm india alfa a riattaccare pista completamente intasata torre torre india c'è da indice alle 001 che dal permesso a default autorizzato al default no ragazzi l'ho scordato le stereosi puttana puttana no 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 oh e successo non mi sono ricordato che stai riusi in puntare avanti quando quando freni esi quando terri a frenesi date in avanti ai fatti ma ci sta mettendo in volo ora va a battuto a parte quello io proprio sono fatto il touchdown già premendo doppio e quindi proprio è stato assurdo atterraggio con capriola hai fatto si no poi io sono ricordato ho lasciato l'ho riattaccato sentiamo di atterrato penso che mi prenderò il 190 ea fitta corp beh andiamo a conquistare l'africa sono chi è che fa roma io ah però rommel ha buone tattica che cosa rommel ha buone tattica c'è ha portato un sacco di vittorio ma già mai rommel è stato il più il più uno dei più grandi generali della storia mh eeeh oh chi è questo oh mi sta andando a solo qualcuno era maresciallo giusto si fred maresciallo alla fine è stato promosso fred maresciallo ma da quello che so le ss ammiravano molto i bersaglieri gli italiani a questo si chiama ehm fred maresciallo in grado nostro sarebbe beh beh sono in finale generale di corpo d'armata eh si una cosa del genere torre torre da india charlie chiedo permesso di atterraggio negativo ripetere il circuito 159 di full flop e carrello esteso è il sede allenare e mantenere l'asse piste india india romeo avanti india india romeo riporto punto attesa che è entrare in pista e decollare riportare il sottovento a tutti gli aerei riportare il sottovento in volo lento 159 di full flop e carrello porto riporto il sottovento avanti chiedo il permesso per il decollo autorizzato al decollo riporto il sottovento riporto il sottovento riporto il sottovento e dunque anche quelli che stanno facendo ma mentre gli altri devono ottenere tutto fuori io sto a 150 nodi voi andate a 200 mi raggiungete ma io rimango in circuito perpetuo india romeo 0,01 sottovento immagino che sia davanti a me tu no? affermativa ok oh stupendo eh esatto adesso delle turbolenze qualcosa eh c'è un del tribunale no allora è lo scio scio di altre aerei sicuramente no no ma proprio nella pista per quanto tempo perdura una turbolenza rilasciata da un aereo? vai eh allora io vi saluto io vi saluto non ce la faccio più veramente ehm come non ce la faccio più? detto che ti sono troppi frullati ti fai abbattiamolo sto dietro a zeus che è successo? protector protector mi ha fatto più detto che non gli ha fatto eh? che è certo vi dovete mettere informazione con me sto facendo il finale ma sto seguendo a crazy ma porca trova ma che mi si che non riesce a guidare il tf no ah perchè stavo guardando a terra strano che è che io lo dico ah ma io faccio un po' più ehm sono quasi in finale ok ma non dovevo seguire a zeus credo dovete seguire a moi ah ma col carrello e i flap su 8 ore che lo sta a dire no no si si tutto giù tutto giù tutto giù ok tutto giù tutto giù tutto giù tutto giù tutto giù prendi il 18 e fatti un po' di giri così per togliere un po' di tensione un po' di tensione un po' di ritorni coltivare tanto quando quando tanto se da poco deve andare questo se quando regress oh 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 ho visto zeus anch'io posso sopra armi oh ok sono sono dietro armi tu no tu ieri praticamente addosso d'armi ok continuo per frua 1 0 8 seguitemi ragazzuoli io sto sempre a 159 ma c'è qualcuno di lei che c'è il carrello suo oh ma io l'ho usato perché mi sembrava che qui mi è riapparso Zeus un topolento domonetto via pica corso la 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 Zeus almeno davanti al solito viene via la la viruses ehi da or quanto la 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 puoi nossa eh ma lo sai qual è il problema? non ce l'ha nessuno eh lo so, la caccia alla Bismarck lo so? suv'ho la Bismarck suv'ho la Bismarck ma quella la b-secca a bismarck armi non mi cadere questi 3 Pro 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 la caccia alla Bismarck attacca pro peccato che mamma mia Bisognerebbe andare a ricarare anche le portaiere inglesi che avevano, mannaggia. Ma c'è stanno le morde? Eh, ho capito. Sto trovando un bel po'. Ma qua è troppo... è troppo tropicale come zona, mannaggia. Chi hai in formazione con me? Io, Armi. Grande, Armi. Ne vedo altri che si stanno avvicinando. Sì, io sono il terzo. C'è quello che ti vicino. Sembra quasi una formazione della seconda guerra. Sì? Vedi che oggi ho lavorato su Mission Editor un po'. Sì. Ho fatto un trigger fico che praticamente tu sei in uno spazio aereo. Prima di entrare, per esempio, in uno spazio aereo nemico, vieni avvertito entro tipo 10 miglia, una cosa del genere. E poi, in conseguenza, partono degli aerei nemici che ti dovrebbero venire a intercettare. Ora, riguardo quella cosa che ti avevo detto stamattina, esiste uno script in realtà in grado di poter riconoscere gli armamenti che hai a bordo. Se li hai o non li hai. Sì. E' un pochettino complicato da fare perché andrebbe fatto apposta. Però ho parlato con un mio amico e mi dovrebbe dare una mano lui e lo facciamo insieme questa volta. Io sono in formazione. Quindi ho trovato la soluzione pure a quello. C'è come fargli riconoscere gli armamenti, Armi. Sì? Sì, sì. E' un pochettino complicata la cosa, però si può fare. Ok, adesso rientro, carrelle flat. Manetta sempre al 50%. Non fa forza l'eula. E mi seguite. Virata a sinistra. Forchio, sto stallando. Se non mi chiesti in testa sarebbe utile. Ok. Ci mettiamo in fine indiana, sempre dietro di me, eh. Fate tutte le manovre che faccio io. La manetta ce l'ho sempre al 50%. Armi tu mi vedi? Sì. Mi metto dietro a te. Oh, sono velocissimo. Cacchio. Non siamo più al 159. A quanto siamo? Intorno ai 300, un momento. Ah. Allora, sono lenti, che ho fatto a voi. No, io sono al 430. E... Ma anche... E sono ai 300. No, 430 non è vero, quello è il 3. Non è vero, non è vero. Fra poco inizierò una virata a destra per allinearmi alla pista, eh. Ok. Manetta al 50%, voi seguite sempre la ruota. Inizio la virata a destra. E ripartiamo con gli otto cubani. puoi risparmi. Quindi... passaggio da dentro alla pista, superata la testata pista dall'altro lato, si tira su. E' buona volta che si sta in aria, si sta per girare. si punta la testata vista dove si è iniziata la manovra che la pista con questo è cortissimo è dall'alto ma comunque bellissima sta informazione che lo voglio dai col volo lente più facile o ma sono velocissimi volenze come se piovesse infatti dietro zeus io sono dietro te e zeus io sono dietro tutti e sono dietro tutti quindi credo quello che sta peggio è bello che non c'è anche lo stupato lunghissimo occupato voi dovete stagliere a me non è che dovete tagliare le manovre i mortali la vita o traccio a bollino a gustata amati poi abbiamo fatto un testo santo non vedo più 0 ho perso la testa Se becco la turbolenza di scia, finisce male per me. Allora, quanto persiste la turbolenza di scia? Non lo so, ho cercato su internet ma non ho visto nulla. Sono sincero. 5 minuti. 5 minuti dura. Mi pensavo che pochi secondi. Ma cosi tanto? Oppure per tutti gli aerei? La scia che rilascia un aereo dura 5 minuti. Poi la turbolenza può essere più grosso o più piccolo, la seconda della grandezza. Eh, infatti io sono passato dove è passato prima Zeus e mi sono riconosciuto l'aereo. Se ci fa legato sugli aeroporti quando ieri sono tutti in fila per il decollo, aspettano 5 minuti prima di decollare. E' colpa del toroide. E' colpa del toroide. E' colpa del toroide. Perché praticamente creano un vortice che è circolare. La scia è un vortice. Eh, appunto. Quello che si crea è un toroide. Ok. Ma lei fa il chirurgo? Ma no. Ha preso la laurea alla Sbocconi? No. Se ci fate caso, per allontanare queste turbolenze di sci, alcune aeree hanno delle tippe particolari. Delle tippe che sembrano quasi dei timoncini piccolini. Mi avete fatto caso? Sì, quando spezzano questi toroidi. In modo che siano... Io vi saluto. Protector, ci hai salutato mezz'ora fa, hai salutato. Ancora qua. E' rimasto a pensare, è rimasto a pensare. Mi raccomando quei brullati, eh. Protector, si fa un brullato e si sballa. E io sono contro di voi. Perfetto, perfetto. Facciamo un'incrocio. Prima andato il verso. Oh! Questa. Se non lo vedi è quello che ti sta per arrivare in faccia. Puoi essere? Sì, sì. Da sopra, qui. E' quello sotto di me? Che è appena... Ogchio. Il sglacchetto è... Il sglacchetto è di sglacchio ! Il sglacchio è di sdm. Il sglacchetto? Loferos nodigize il sd photographer. Non lo sa per... lifecycle Jenali èажу... Devi freddo... Perché questo è piaccordo. Dopo un po' diventa un giovata dentro però bisogna... Perchè c'è gente che lo fa, che ci arriva in una settimana... c'è gente che ci arriva in un giorno, c'è gente che ci arriva in un mese ok signora entriamo in circuito e atterriamo uno dietro l'altro velocità metà del sottovento prepariamo la macchina 150 nodi full flap e carrello e andiamo all'atterraggio facciamo volo lento nel sottovento di già quindi full flap carrello manteniamo i 150 nodi e andiamo all'atterraggio interrompio in finale laius ma perchè lo fai col tf? in che senso? perchè lo facciamo tutto fammi una domanda perchè con il 18 è troppo facile esatto perchè protetti il giorno che tu andrai nell'aeronautica francese o quella italiana quello che sarà ti metteranno sempre su un aereo a pistone prima e dopo ti passano aereo a te ma io vorrei farlo questo lavoro ahahahahah ma prima c'è la teoria che è un casino fisica matematica io lo vorrei fare io lo vorrei fare non so se militare o di lì fatelo fatelo non vi fermate non vi ha rendito davanti a niente non fate come me che mi sono fatto in fino a chiaro ma armi te ci hai provato? a fare no non ci ho provato perchè mi hanno tagliato le gambe prima mi hanno detto di fare altro ho voluto seguire quello che mi hanno detto e poi ho perso tempo ma porca ma che c'hanno mandato fino a mano il mio aereo? ma eh sono in finale ecco perchè ho detto fatelo fate di tutto per farlo perchè poi se si perde tempo viene pentita sono troppo basso io mi fermo qua a vedere i vostri atterraggi ma io io ho paura starito Zeus perchè se dopo mi schianto uccido anche Zeus oh se tu puoi non c'è una cosa non c'è una cosa calma qua da fare non so ok non c'è una cosa calma da fare tipo non so qualcosa uh dai ti so ti devi allenarmi a fare circuiti mamma mia mamma mia crisi cosa è Zeus? cosa è Zeus? cosa sono otterrato eh? ti devi allenarmi a fare circuiti vabbè almeno sono vivo mamma cannella eh allora almeno prima otterraggio ho fatto male però almeno è colpa di Zeus che mi ha stretto in curva eh? io veramente mi stavo a tagli dalla pista non sapevo che stavi dietro eh ma è meglio se cambio aereo? tipo allora io so che il periodo di apprendimento di una persona quando fa una lezione dura dai 15 ai 20 minuti dopo di che non apprende più niente quindi protector fai il volo libero protect ah se n'è andata alla fine vabbè no 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 non me ne vado ora è tutto allenamento è tutto allenamento è tutto allenamento oh fai volo libero vado fattelo col tf è andata sul 18 che sono bravi pure i bambini a pilotarlo qui sono bravo pure io appunto 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 io m'uomo prendo un aereo armato e vado a caccia di valeriana di zero espresso vuoi fare vuoi libero? vuoi fare vuoi libero? vuoi fare vuoi libero? vuoi libero? vuoi libero? vuoi libero? vuoi libero? io mi saluto definitivamente io mi saluto il fio il fio il fio il fio ciao armita che prendi? ciao io no che prendo? che devo prendere? stavo vedendo se c'è qualche contraerea ma non ci sono manco mi ha messo i cannoni della seconda guerra mondiale devi metterli 88 e poi se ci avevi 88 ne entrivi e gris e gris che fa il fio il tf vuolo libero e cercherò un po di prendere da zeus ah io cerco di avanottare oggi adestratevi a fare un po di bullo con i comandi incrociati avvicinamenti manovre me ne sono accecato ma me ne sono persi di spitfire ma io ma io un aereo un aereo un aereo me lo voglio prendere però un aereo delica molto probabilmente mi prende il 190 credo che posso restare un po di il 190 il 190 190 il dora io prenderò il mosquito mamma lo prevedisco al al 109 ragazzi posso restare un po di più ma va bene certo che puoi restare che va bene protect ti ferma ma l'anemometro del tf51 si è il 19 non è in nodi è in nodi è in nodi è in nodo capi e qua ci scritte è in nodo e miglia allora eh qua ci scritte è in canna dei tedeschi è in chilometri orari se vuoi si si pure negli aerei italiani della seconda guerra mondiale erano in km orari esatto poi abbiamo perso la guerra e sono diventati nodi e negli aerei russi eh si in km orari oh? perchè questo aereo fa cosi? l'ho dato storto? c'è uno con una jeep o sboglio? si si ah 190 a 8 la 8 è con il motore stellare invece il Dora motore in linea se tu andessi il 18 andassi a ancora è meglio quello più moderno è il Dora muso lungo esploratrice battetelo ecco scusatemi mi c'era staccato il il D9 quindi il Dora yes e così così aspettate un secondo Deus la curva di apprendimento per me è niente dunque non no no la curva di apprendimento per tutti gli esseri umani dai 15 ai 20 minuti dopodichè non apprendi più dai cazzicci una sola è anche più più alta vediamo cosa è miglia quanto mi viene se li potevano montare a due pistole anche davanti a sto aereo ma infatti eh ma c'è il P51 eh ho il TFM è giumato ah ho capito che tevolo fai ma c'è ma c'è ma c'è ma c'è se lo prendi dimmi un armi che ti posso i tasti ti dico tutto quello che ti posso dire ma il Pucara è armato? si 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 18 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 mi sono piaciuto di sti guanti incrociati? no, non l'ho visto eh, non l'hai visto tutti così, dico sto cercando di portare gli hospitfire in vista che ora c'è nel 18 l'allineamento dell'HMD sì, c'è si deve fare che sono noti dai punti completamente sballati io sto installando il P51 quello armato devi smetterla di prendere moduli ma non li ho comprati no, questo qua è quello della prima gratuita guardate che non spendere mai stiamo piacendo, guardate come ti incrociate sto incrociando, signori aspetta, aspetta, aspetta vedi, incrocia, incrocia, incrocia eh, è più incrociato di così protetto, ma con cosa sei? col furato col furato ahie bannatelo bannateli che vi devo dire ma a guardare a te mi stavo andando a mettervi caldo ma perché non vuoi volare col Tf? che c'è che non va col Tf? io ci ho dato il suo po' protetto con me parli cosa? perché non ti va di volare col Tf? dimmi non lo so, non mi è difficile? sì ma volare è... fino a quando tu non imparerai a volare con il Tf bene sarai sempre un pilota mediocre mediocre lo sono eh? tanto lo sono dai, si demoralizzato si demoralizzato si, 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 si scompiato sta colpa di serurale guarda, lascia fai altro poi un certo punto ti devi rimettere in ti devi rimettere lì di testa ti metti da solo e ci provi 4 ore 20 minuti 10 ore ieri però ieri non ho fatto il corso perché dovevo fare l'update e tutte cose ti devi allenare non ti devi scoraggiare tanto ricordo la cosa differente è che non c'è nessuno che ti giudica nessuno ti metterà i voti se ti riesci a guidare è una conquista tua ma quando ti dice qua la cosa della croce sul 18 che ti dice allineamento del smg devi tenere allineato al centro e poi devi tenere premuto che è già anche finché non ti dice allineamento ok ok ti dovrebbe cambiare la scritta e devi allineare la crocetta di sopra con la croce quella più grande aspetta la croce aspetta aspetta vai reggi ti sta guardando adesso eh adesso vai metti lo streaming il protetto allora che ti ho detto vi do male però aspetta ecco eh vai ok 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 c'era di allineato allora ora che è allineato più basso e più lento vai bene bravo bravo schiaccia un'altra volta line allineato ottimo reglis ottimo yes allineato grazie tutto qua tutto questo non c'è nient'altro grazie non c'è più niente da farì beh vediamo di mettere a posto su 190 già l'hai preso io le dico le cose mentre le dico le sto facendo stai nel modulo aspetta che prendo lo prendo pure io aspetta un secondo vado a prenderla il o a me si chiama e conservere armi andando a prendere l'acqua armi non c'è più niente da farì non c'è più niente da farì guarda no andiamo bene no non ce l'ho questa è una mappa dedicata ai pistoni 18 ti altri erici ho messi per farli provare ma qua si pistoneggia ci sono quasi quasi prendere il pucarava ok adjust control ma il pucarava non so neanche ragazzi un attimo di silenzio che passi i comandi ad armi allora clear category clear category un attimo solo che pulisco ok tu puoi controllare gli assi prima eh si si facciamo gli assi vabbè glitch glitch roll roll allora il roll ci ho messo 3 di death zone e 15 di curvatura allora aspetta che è qua eh io ho bisogno di un death zone un po' più 15 ok si 158 mi sembra un po' troppo ok andiamo sul pitch oh si bambino 3 di death zone e 15 curvatura ok ruder non c'è un cazzo ah no ho messo qui il ruder 3 di death zone e 30 di curvatura ah hai messo di più sul ruder ok va bene ok controlla se ci hai inserito la manetta e passiamo solo throttle non c'è il 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 pitch non è il pitch variabile che è sto pitch variabile è il pitch dell'elica l'inclinazione dell'elica gli aerei tedeschi hanno la peculiarità che hanno il passo dell'elica automatico questo è una roba di lusso no eh sì ok allora throttle questo qui è il P47 il puccarò com'è ok poi andiamo ai tasti andiamo ai comandi del fuego categoria stick spazio ragazzi sto spiegando un attimo i comandi ad armi dopo rispondo al resto allora da tastiera spazio c'hai le mg131 151 fire e ci ho messo io dal pulsante principale ok allora ripeto aspetta che mi sono confuso un attimo sul pulsante principale ci ho messo le mg131 fire che da tastiera 131 151 ah ok solo uno ok con quelli spari solo con le mitragliatrici poi invece il secondo tasto è 131 151 fire che è solo spazio il primo qual'era scusami da tastiera allora il primo è mg131 fire da tastiera è control di destra più spazio contro spazio eccolo qua ok stick primario va bene e poi 131 151 sul secondo grilletto sul secondo grilletto che da tastiera è solo spazio ok poi ci abbiamo weapon roll house alto di destra più spazio per sganciare le bombe e aspetta che faccio un controllo perchè qua ci ho messo la vista non capisco perchè non si facciano quasi linee quindi questo quindi posso mettere questo ok mettiti i trim lo sai no come si mettono? si ecco stavo aggiustando il weapon rollisa ci metto questo questo per le bombe poi trim 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 prendermi un motore in volo perchè mi sono dimenticato di accenderlo ok poi sulla manetta del gas ho messo radiator flap closed e radiator flap open control di sinistra A da tastiera categoria engine control radiator flap closed e radiator flap open questi a che servono? questi sono come si chiamano? sono una specie di alettoni che stanno intorno alla corolla del motore per aumentare o diminuire il raffreddamento del motore si chiamano estrattori in realtà quindi categoria engine control da tastiera è L cioè beh control di sinistra più A e alt di sinistra più A che è messi 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 ok poi ci rimangono i flap e il carrello e siamo a posto fatto Archbishop si può mettere un attimo la live così vi guardo? 3 posti però maledetto 3 posizioni 3 posizioni dove ce le ho allora questo fab up poi appena hai fatto guarda la mia streaminger facciamola messa in moto per il takeoff li posso mettere questo il landing questo takeoff questi me li devo scrivere un attimo su questo takeoff 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 ok ci sono ok andiamo con l'ossigeno che è questa manopolina blu adesso devi vedere come questo è ah ma aspetta che devo mettere lo zoom chiusa no coxpite è simile al 109 quindi è girato l'ossigeno è girato l'ossigeno sto attaccando lo zoom ok sì aperto scendiamo sotto c'è questa copertina qui c'è questa copertina qui e dobbiamo attivare tutti questi tasti aspetta che mi metto in moto tutti tutti dimmi quando hai fatto ok ho fatto questi altri pure ok poi alziamo questa cover e basta e poi ci giriamo a sinistra blocchiamo la manetta con alt di destra più ohm poi appena davanti la manetta ci sono i magneti mandiamo avanti tutti e tre e questa leva M1 M2 si tutto avanti poi c'è questo levone grande fuel tank selector lo mandiamo tutto su ci sei? bene adesso ritorniamo dove abbiamo alzato la cover vedi c'è c'è una specie di pulsante lo mettiamo in basso e aspettiamo volresti sentire il rumore del che cosa che aumenta come si chiama? una specie di dinamo sì aspettiamo 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 e via col destro ok destro esatto apriamo appena hai messo in moto poi apri le cappottature del motore gli estrattori non mi cerci allora questo pulsante qua lo vedi? lo vedi? aspetta ok lo mandi prima in basso e aspetti 3-4 minuti senti la dinamo che senti la dinamo quando senti che la dinamo ha raggiunto il massimo dei giri lo mandi tutto su cioè prima il tasto destro esatto prima col sinistro in basso e col destro col sinistro devi mantenere premuto mentre senti la dinamo e poi quando hai finito col destro mandi su non basta eccolo perfetto alziamo i flap chiudiamo tutto e tutti hai aperto le cappottature del motore? no perchè non mi trovo no io le vedo chiuse no le ho aperte io le vedo chiuse prova a chiuse ora sono chiuse ora sono aperte le continuo a vedere chiuse alza i flap e andiamo in pista sblocca l'orizzonte artificiale con la rotellina giri e si sblocca ok per bloccare il ruotino di coda tieni la barra alla pancia per sbloccarlo per girare basta che centralizzi e lui si sblocca ah i freni differenziati ci siamo dimenticati gli armi well break left e well break right z hit qui 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 che bello faccio questo eh oh che bello ma l'avete vista la skin c'è 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 la texture per l'fv 190 delle forze armate rumene della seconda guerra mondiale minchia che schifo ma che dice si rubano i braielli che cosa erano camerati eh saranno stati tre camerati ma sempre rumeniso eh vabbè non ho deciso se prenderlo mamma mia cosa eh il 190 ah eh però ci sono troppa cosa che voglio prendere eh eh beh si sono di infiniti e prenderei tutto anch'io allora se ci hai fatto caso se ci hai fatto caso il trim da ieri tedeschi c'è solo il pitch non c'è il rollo che gli aerei tedeschi non avevano bisogno ma che c'è ho fatto un po' 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 ci sentiamo stasera ciao 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 e non so se farò tf non so se farò tf non so se farò tf ho con timore eh per ora con i film principalmente con i film non c'è un modo di sbloccare il ruolo dietro cosa non si blocca il ruolo dietro a chi dal 109 si basta che tieni la barra alla pancia si blocca voglio cioè dico non c'è proprio un blocco come il 109 no non c'è un po' 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 ma non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' ma abbiamo quella mappa sì il canale no la cosa è che tu anche se è presso a fuoco uguale mi dice di tenere il ruotino dritto sto cazzo di aria se tu tieni il ruotino dritto vedi che vai dritto io sto venendo da voi non sono pacifico comunque stranamente in vita sono rimasti più zero che 109 esemplari di 109 ce ne sono pochissimi esemplari di zero ne sono rimasti assai eh ah lo zero perca ne lo metton? ah beh chi che usa ancora i... sto schiantando per un po' ho visto un video bellissimo di un tipo che guidavo uno zero venga ma sono bellissimi ragazzi mamma mia che aereo sensi proprio ma non c'è l'ossigeno sul b51 no comunque quella che non è facile per un terreno di aerei cioè non ne possono fare metti 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 no si vabbè però con gli aerei metti non dovrebbero avere tanti problemi ma è basta chi mette ma ce li devono programmare no vabbè però secondo me è una scelta commerciale valerio cartello te lo ricordi? tu? se dà una mano a Regris ok ma io vorrei soltanto il tornado dopo potrei... cioè potrebbero anche ciberare ha tornato quando è uscito il tornado? due anni... fino a 80 non so e però anche noi appena hai decollato metti una manetta al 50% di pelli, velocità quelle temperature vanno alle stelle ma come... non c'è del cibera ma dovrebbe essere un secondo che apre un bps no ma non è così tanto da in cibera no no di che anno ha? eh anni 60 l'hanno usato in Vietnam negativo ah fai al cloud si buttava una giulina l'inglese ah quindi dalla... ma l'arma dov'è? davanti a te sì sì dove ci stanno quei tre pallini sì tasto sopra lo mandi su s'accendono i pallini diventano rossi wow grazie grazie che stia in due contro di me mi ha fatto... posterissimo ah 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 ma Armin posso ingaggiare in cibera Armin nelle vicinanze ci sono tre aerei civili che ti vuoi divertire a fare un po' di informazione un po' di informazione dovrebbero stare alla nostra sinistra se non guardi se non guardi non mi si faceva l'autostart ah stanno a destra a destra se aspetti un secondo te ne spiego ah ok perfetto l'hai visto gli armi? si mi sa che zio sta prendendo per andare qui no negativo sto di scorta d'Armin sto a vedere che è convinto se vuoi ci mettiamo pure in un altro canale così non rompiamo le palle sì sì almeno glielo spieghi con calma eh vengo lì da voi ma non spara nessuno no vieni da noi e spara quando vuoi ah vabbè sparò agli aerei agli aenne quello che vuoi agli aenne e venti solo hai messo una manetta al 50%? eh no pesa un po' di più eh 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 spara spara e spara ce n'ha fatto uno ahm vedi ce n'hai fatto un'altra non vedi sto arrivando ah peccato che il P-51 non ha i cannoni allora di solito con le mitragliatrici aggiustavano il tiro e poi utilizzavano i cannoni il 190 è da boom and zoom yes essendo d'alta quota ecco perché mi piace ecco perché mi piace ecco perché mi piace hai provata la superpotenza? No, ancora no, ma prendo un attimo di confidenza. Inche a comisare, a comisare. Inche a comisare. Inche a comisare. Oh, dopo vattene a ripetere il video, siamo a fare un bel volo di informazione. Aspetta che mi metto dritto, che sta fondando tutto storto. Peccato che non c'è il trim, destra e sinistra. Qua se non mi sbaglio mi è sembrato di vedere i trimmer, tipo elicottero. Aspetta un attimo, se ne andrà per fatti suoi l'aereo, fammi controllare, perché avevo visto che c'era trimmer. Flaps trimmer, artificiale, electric system, no, non. Conto 8. Andiamo a cacciare di questi ragazzuosi. Ok, 2v1, finirò male, nel Mario anche. Va bene. Ok. 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 Cosa stai con il 51? Sì Sarà un lavoro facile per voi Anche perché siete Fin oltre di me Appunto quindi sarà più semplice Non ti vedo più però Io sto di scorta d'armi eh Quindi non fai fuoco? Per il momento no Se abbatti armi faccio un po' Ok Eh ma io non distingo chi è chi È un po' una roulette russa Eh sì Farmi quello un po' più avanti giusto? Yes 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 non mi ha allaggato ti ho colpito almeno? no bello ah mi sa che te no no neanche te mi ha colpito cochio dove sei? no surprise ah no bravo perfetto no 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 si ritola su quel potenza armi stai a sparare a me? ah allora ti ho detto che non distingo quello davanti armi ok no 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 ok Sto rallentando tantissimo Dove sei andato? E' tutti e due adesso Oh ma apparente E' un po' di potere. E' un po' di potere. ok Armi rientriamo alla base a fare i fornimenti e ripartiamo vai sei tu il caposquadra non so dove sia l'aeroporto penso che sia là allora dobbiamo fare prua 034 è sudata no questo è molto male vabbè se l'ho fatto sudare sul serio sono contento ma chi è che sta colpito però ma alcuno di cui penso armi penso ho visto che tu due mi state sparando non ho capito più niente grazie 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 tutti quanti ieri ma su dcs non ho mai trovato la convergenza ma mi sa che su questo c'è solo centrali quindi in realtà la convergenza è molto relativa ma c'è pure i cannoni sulle avi ma cos'è la convergenza che ho già sentito il punto dove sparano dove convergono i proiettili e non vanno dritti diciamo i cannoni sono leggermente puntati verso l'interno esatto in modo che a una certa distanza i colpi convergono in un punto solo ma qua è il conto delle munizioni fantastico ma bisogna zerare a mano immagino non so di cosa stai parlando lo sai sulla a sinistra dove si sono il master arm in alto ci sono quelle quattro rotelline che ti dovrebbero indicare il numero di munizioni c'è le strisce bianche che ti dice quanti proiettili c'è eh si e poi c'è il la rotellina sotto ah ah e molto probabilmente quelle servono per regolare il numero delle munizioni è rimasto vediamo ma sei prossimo tipo velocissimo voi due con il 190 contro me col 18 solo cannoni si vabbè se uso i missili è facilissimo buonasera si può sparare con un pucarano si si dai raga oh f*** io mi stiamo facendo è semplicissimo chi vorrei imparare questo è questo è questo è questo è è il è il è il è 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 il selettore d'arma c'è cannone alla fine devo premere quante volte non lo so devi vedere dove va il selettore aspetta e allora intanto devo mettere il file se no è difficile che spara ok allora lo vedi dove c'è allora si accende il master arm poi sali c'è una specie di di monopola dove c'è scritto ms come bomb can eh no io non le vedo se scritto proprio selettore d'arma sì sì quello l'ho preso ok e metti metti la tacchetta sull'ultimo su cannone eh dovrebbero essere sei giri penso atterraggio quasi perfetto è il tasto per sparare come si chiama eh gun rocket trigger space quindi solo cannone ehm Zeus ok super ma si mette qualche fuel tank poi c'è weapon ehm ma lo ripara è aperto il tetuccio è spento il motore chi? si è spento tutto mi dice anche copy se stai sull'erba mi sa che non lo ripara eh mi dice anche copy però non inizia a riparare quindi vabbè qui ha un altro modulo si infatti ecco da questo qua c'è ciao ragazzi ciao 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 sei tornato però sono con la tablet computer no ok perchè il computer no perchè il mio padre che lo sta usando no 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 il il radar dell'f-18 rileva anche gli aerei a pistoni giusto in difficoltà perchè sono molto piccoli è pulissimo è pulissimo oh ma perchè sono così distante da voi scusate perchè vuoi spararlo a qualcuno un missile? no ehm perchè noi stiamo facendo ehm allora armi zeus con il 190 e io con il F-18 ehm non è molto equilibrati no 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 ma scusa visto che stanno gli altri visto che stanno gli agris con l'aereo col Pucaro perchè non ti metti pure tu con l'altro aereo col P-51 e stiamo 3 contro 2 a sto giro ok vabbè no prenderò anch'io veramente io non sono sul server non ho mai ma vede ehm perchè no voglio andarmi a riposare da un po' ora che ci potevamo sparare vabbè 2 contro 2 siamo ma se tra poco arrivo no 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 ma il Pucaro è facile quindi ehm il P-51 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 io unica cosa non sono mai riuscito a sparare un colpo col P-51 il P-51 e io mai sarei cittadino a fare un circuito giusto Più o meno siamo lì Ragazzi, aspetta un minuto Ah, ma no, non sai da questo Ma la colpo cara non dovrebbe essere avvantaggiati rispetto a voi Io non ho il pugra Devo prenderlo? No, non puoi prendere quello che vuoi Ok Oh, cacchio Ok Ok, ok, va bene Ok Chi è sto qui davanti? Non vuole lo trasportatore Ma dove che sei, Re Gris? Non so, c'è in volo Ma non so dove sei decollato Eh, da... come si chiama qui? No, Anderson è un altro Ma dove ne ho bene? Ma dove stai decollando tu e tutti gli altri? No, io sono decollato da Anderson Sì, però io devo fare 100 miglia praticamente, no? Eh, ma state una affianco all'altro Eh... eh sì, ci proviamo Ci incontreremo sulla prova Sì, sì, ma sei con l'F18 Eh sì, eh Ma perché? Eh, non l'ho cambiato ancora Ma te dove sei? Sì, ma puoi andare contro ieri della seconda guerra mondiale, col 18? Sì Basta che sparo Cioè, farei un po' di fatica a stare lì dietro perché sono obiettivamente più lenti, però... Ah, ma no, vabbè... Vado di calcone, non è che vado di calcone Sì, ma è l'F18, scusami Allora... 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 Allora...